Un caro saluto da Diego Fusaro. La Russia dice di aver testato con successo il missile nucleare Bure Vestnik. Insomma, lo ha detto Putin stesso, viene ripreso da tutti i principali quotidiani nazionali e internazionali. La Russia non sembra arrendersi, non sembra venir meno alla propria voluntas di continuare nella guerra d'Ucraina, una guerra nella quale ne va, lo ricordiamo della Russia stessa, da che se la Russia venisse sconfitta allora dovrebbe capitolare, sarebbe la sua fine e si troverebbe davvero a quel punto la Nato ai propri confini, da che l'Ucraina diverrebbe in toto una dependence di Washington, cosa che in parte già è, perché se l'Ucraina non è ancora nella Nato, la Nato è già in parte nell'Ucraina con le sue truppe, le sue armi e i suoi uomini, ebbene la Russia è in qualche modo costretta a continuare in questa guerra se non vuole capitolare. Ed ecco allora che prova armi nucleari nuove, che segnala in ogni modo di non essere assolutamente disposta a piegarsi e di voler continuare fino alla fine, fino a quando cioè l'Ucraina non si sarà arresa. Insomma, questi segnali, se per un verso sono da salutarsi positivamente perché sono di buon auspicio per un mondo multipolare in cui non ci sia solo Washington col suo imperialismo, ma ci siano altre potenze come la Russia, la Cina, l'Iran e così via, per un altro verso, in maniera certo meno euforica, ci segnala che la guerra continuerà ancora per molto tempo e dato l'armarsi costante delle parti in lotta potrebbe anche assumere connotazioni davvero disperate e disperanti. Staremo a vedere quello che sarà, intanto la guerra non accenna a finire, questo è poco ma sicuro, con buona pace di coloro i quali già quando ebbe inizio il tutto nel febbraio del 2022 ebbero a sostenere impunemente che tutto sarebbe durato molto poco. Ecco, non è così, la guerra sta durando e durerà ancora a lungo.